Samsung lancia a Las Vegas la nuova versione della Galaxy Camera, Galaxy Camera 2, il concetto è sempre lo stesso, corpo da fotocamera point and shot di fascia alta, quindi con sensore da 16 megapixel, BSI, CMOS, zoom ottico 21x stabilizzato e corpo comunque robusto e ben fatto, sul retro un enorme schermo touch con all'interno la logica di un telefono Android, lo schermo è da 4.77 pollici, 4.8, è un LCD e a bordo il sistema ha Android 4.3 Jelly Bean come Core, Samsung ha rivisto in parte l'interfaccia, in alcuni casi l'ha migliorata rendendola più fruibile, il sistema è ovviamente veloce e come il presente modello di Galaxy Camera sarà ovviamente disponibile con 3G integrato e anche LTE, processore da 1.6 GHz quad core, non sappiamo esattamente che modello, pensiamo che si tratta dello Snapdragon e 2 GB di RAM, NFC ovviamente all'interno, partenza rapida per quando la si accende e si vuole scattare subito, altrimenti parte un po' più lentamente se vogliamo andare nella prossima applicazione per creare, modificare o editare le nostre foto. Sono stati inseriti diversi software fotografici, vediamo il poster trail che ci aiuta per scattare foto al cielo stellato con la volta celeste in movimento, la nostra Galaxy Camera parte e c'è tutto il tutorial per permetterci di realizzare una foto di qualità. Il concetto di Galaxy Camera, magari visto anche il costo, non è sbocciato, anche perché comunque gli smartphone ormai fanno foto ottime, però Samsung continua a spingere con questo trend e ha presentato qua Las Vegas il nuovo modello. Più leggera, sicuramente migliorata, più fruibile, più facile e immediata anche da utilizzare come camera tradizionale, ovviamente associata ad un piano dati perenne per permettere di condividere e ritoccare subito le foto o a farsi anche dei selfie, è il prodotto ideale. Non sappiamo quale sarà il prezzo di vendita in Italia, sicuramente non sarà bassissimo come il modello precedente, però speriamo in una piccola riduzione per quanto riguarda questo nuovo modello. Prestazioni non le sappiamo, non siamo riusciti a fare degli scatti, probabilmente li faremo un po' più tardi. Comunque questa è la Galaxy Camera 2, 16 megapixel, 21 per di zoom ottico, flash ovviamente retrattile, cosa che su uno smartphone un flash di questo tipo non c'è, c'è sempre flash led di solito, e moltissime funzioni fotografiche con un'interfaccia rivisitata per renderla più facile e fruibile.